bentornate nel mio canale voglia di cucinare oggi facciamo insieme i croissants francesi a differenza dei croissants all'italiana questi non contengono uova e burro in planetaria versiamo 500 g di farina 20 g di lievito compresso sbriciolato 250 ml di acqua e 50 ml di panna fresca comunque vi metto tutti gli ingredienti scritti nell'info box poi aggiungiamo 12 g di sale ed infine 60 g di zucchero aggiungiamo anche della scorza di limone e un po di aroma di vaniglia e incortiamo versiamo l'impasto sulla spianatoia e pirliamo e facciamo puntare per 30 minuti coperto dopo i 30 minuti stendiamo in un rettangolo così sarà più facile che si raffreddi al cuore in frigo e domani mattina sarà anche più facile stenderlo questo impasto ottenuto si chiama pastello lo chiudiamo con la pellicola e lo conserviamo in frigo per 12 ore formiamo anche il panetto di burro con 300 g di burro nella carta forno e mettiamo anch'esso in frigo fino all'indomani ok ok Grazie a tutti. 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 Per 30 minuti in congelatore e 30 minuti in frigo. Grazie a tutti. L'impasto dal frigo togliamo la pellicola e stendiamo nuovamente e facciamo un altro giro di pieghe a tre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 30 minuti in congelatore e 30 minuti in frigorifero. Riprendiamo l'impasto e adesso basta pieghe e stendiamo dello spessore di 4 mm. Mi raccomando con molta pazienza e fate questa ricetta non quando fa molto caldo, meglio in inverno, in primavera o in autunno, ma mai in estate. Ora siamo pronti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.